Ciao a tutti ragazzi ben ritrovati in questa nuova parte di pokémon mystery dungeon esploratori del cielo la scorsa volta avevamo fatto un nuovo dungeon un dungeon praticamente che avevamo scoperto tramite una missione ed oggi quindi andremo a proseguire con la storia principale anche perché si la scorsa parte ho detto anche nello scorso video che era una parte diciamo extra anche perché comunque non è obbligatorio farla per proseguire tranquillamente la storia però ho preferito farvela vedere anche perché almeno evitiamo la solita missione noiosa e perché si facciamo qualcosa di nuovo e allo stesso tempo avanziamo con la nostra storia tanto quando non registravo ho fatto qualche missione come vedete devil e shins sono saliti di livello sono salito anche di rango ora sono rango iper e guardate qua ho trovato una mela dorata ah no la mela dorata si si la mela dorata l'ho trovata in una missione che diceva proprio trovo una mela dorata con lei nel piano 13 ecco e l'ho trovata è uno strumento troppo forte ragazzi riempie del tutto la pancia fantastico poi vabbè qua abbiamo delle bacche arancia 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 ok e ho preso un po' di revital semi due li ho comprati uno l'ho trovato e un altro anche mi sembra di averlo trovato perché eravamo rimasti a zero bene ogni caso non è assolutamente male perché qua abbiamo i soliti strumenti utili nella banca ragazzi non abbiamo più un centesimo quindi dobbiamo rifarci un po' di soldi perché altrimenti diventiamo troppo poveri bene allora andiamo diretti alla gilda perché oggi succederà qualcosa di molto importante state notando qualcosa di strano e bene ragazzi qua non c'è veramente nessuno non c'è veramente nessuno quindi scendiamo e vediamo un po' quello che sta succedendo oh eh cosa succede perché sono tutti riuniti qui è incredibile sono proprio le migliori oibo wow posso avere i vostri autografi per favore ehi chatot chi sono quei pokemon eh ecco che ecco che come al solito fai la tua figura da ignorante quello è il fantastico team malia composto dalle famosissime cacciatrici di tesori team malia o team malia non ricordo la pronuncia vabbè hanno raggiunto il rango master riservato solamente alle squadre di eccezionale talento come esperte cacciatrici di tesori hanno scoperto un'infinità di bottini inoltre non si limitano a trovare tesori o no forti belle scaltri è il loro stile che le rende delle celebrità quella là in mezzo è l'opani è quella bellissima con le orecchie lunghe oh si accanto a lei c'è l'elegantissima gardewar ah è così affascinante e per finire l'altra è mediciam si muove le giadra come se stesse sempre danzando ha un fascino irresistibile un attimo prima di proseguire ragazzi vorrei farvi notare che questi tre pokemon sono tutti e tre pokemon che hanno ricevuto la mega evoluzione e sono comunque pokemon che hanno una mega evoluzione molto forte e giocata tuttora l'opani parlando delle statistiche di settembre è la mega più utilizzata ragazzi a livelli alti in ladder e quindi si l'opani si è fatta vedere ma anche gardewar e mediciam a fine xy erano le due mega più potenti quindi questa potrebbe non essere solo una coincidenza vabbè vabbè fatemi sapere quello che ne pensate qua sotto nei commenti ma chissà perché il team malia è venuto qui uhlala oh wigglytuff caro è passato parecchio tempo oh wigglytuff non si è cambiato di una virgola vederti come capitano chi l'avrebbe detto è incredibile ne ha passato di tempo wigglytuff già è da un bel po' che non ci vediamo state tutte bene? un bel po' vuol dire che capitano conoscevi già il team malia? o malia? oh wigglytuff era un gran bel fusto all'epoca allora come te la passi? ai tempi wigglytuff era un fenomeno nessuno poteva batterlo era così atletico ah 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 eh capitano eh come fa a conoscere le bellezze del team malia? beh sono mie amiche amiche da tanto tempo esatto eravamo compagni di esplorazione di wigglytuff cosa? il capitano e il team malia? allora qual buon vento vi porta? astuto come un tempo siamo venuti per una faccenda importante ti ricordi che nel corso di un'esplorazione tanto tempo fa avevamo trovato una chiave misteriosa all'epoca non sapevamo a cosa servisse beh abbiamo finalmente scoperto eh dove deve essere usata abbiamo scoperto un luogo chiamato grotta e gida la chiave si adatta perfettamente al meccanismo di entrata c'è di più si dice che la caverna contenga un tesoro immenso un tesoro? immenso? di un po' wigglytuff tesoro eh la chiave che avevamo trovato ce l'hai ancora vero? chiave? ehm che tipo di chiave? non mi ricordo ah 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 ehi ne abbiamo passati un sacco per ottenere quella chiave stai dicendo che l'hai persa? è tipico di wigglytuff certe cose non cambiano mai a quanto pare lo panni è ora del nostro regalo sono d'accordo hardware ecco a te wigglytuff ti abbiamo portato un piccolo regalo è la tua cosa preferita una mela perfetta wow una mela perfetta è per me grande grazie allora a proposito di quella chiave oh adesso mi ricordo la chiave quella a forma di un noun vado a guardare padabum oh oh ok ecco a voi sì caro è proprio lei questa chiave ci aprirà le porte della grotta e gida grazie wigglytuff ehi perché non vieni con noi? sarà come vecchi tempi grande una mela perfetta grazie non si è proprio cambiato adesso ce ne andiamo tesoro ciao wigglytuff eh scusatemi sì? ehm vi va bene se ci andiamo a voi? oh anch'io anch'io voglio venire anch'io e tu devil? anche tu vuoi andare a esplorare questo nuovo posto? non è così devil? ovviamente sì sì questo è l'atteggiamento giusto per favore fateci venire a esplorare con voi per favore ehm eh 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 sono tutti così volenterosi siete adorabili certo che potete oh sì grande grazie ok tesorini non andremo avanti per noi andremo avanti per aprire la porta voi potrete entrare dopo di noi la caverna si trova a suddestra da qui eh ok non c'è stata mostrata nella mappa fantastico devil prepariamoci dovremmo partire subito ah eccola ehm non mi sembra molto distante allora sì dobbiamo prepararci ragazzi vediamo un attimo vabbè penso di avere già tutto sinceramente eh allora ho combinato anche le mosse di devil se non sbaglio vediamo un attimo mosse eh Shinx ha mangiato qualche caramella e ha preso due nuove abilità qui precisino eh il pokemon si concentra per fare in modo che i suoi attacchi vadano a segno la sua precisione aumenta di uno la lezione diminuisce di uno questa la conoscevamo e anche eh super lan no super lanciatore no allora sbaglia e impara assostrumi ah sbaglia e impara sì ecco quando la sua mossa o l'attacco del pokemon va vuoto il suo attacco e il suo attacco speciale aumentano per il solo turno successivo e questo ragazzi potenzia moltissimo scarica quindi fantastico fantastico grande combo da attuare con con Shinx bene eh cosa voglio fare ancora beh non prendo un combinatore perché comunque sì non lo utilizzeremo quindi dove vuoi andare ma voglio ovviamente andare alla grotta Egida ci sarà da divertirsi ragazzi quindi muoviamoci i nostri livelli sono un tantino più alti di prima quindi sì non male eccomi qui beh questa è la grotta Egida oltre questo punto si trova una zona inesplorata nessuno è mai entrato pensate ai misteri che ci attendono all'interno non è eccitante tesori ehi ehi questa cosa sembra abbastanza importante già già che strani ci sono ci sono i bo sono sicuro sicura che c'è qualche trucco ci deve essere risolveremo questo mistero state a vedere oh sì lo abbiamo già chiesto a tutti gli altri come ma come si chiama la vostra squadra ah siete il team di this squad è proprio un bel nome penso che dovremmo muoverci vediamo chi riesce a trovare il grande tesoro o i tesori di questo posto naturalmente ci rimarremo male se non fossimo noi le prime ma auguriamoci buona fortuna vicenda ok dalcezza noi andiamo sì sarò il primo a trovare il tesoro già già dovremmo mettercela a tutto i bo ehi ehi cosa allora devil controlla la stele la superficie è attraversata da strani solchi allora dato che io so leggere laun o no non so cosa si significa si dice addio questo vuol dire ice beh ice ragazzi e forse a qualcuno è già venuto in mente qualcosa ice annaun o onnaun oddio anna cioè unknown unknown penso sì unknown o no sì unknown praticamente perché sarebbe unknown quindi vabbè unknown se desideri passare chiudete gli occhi e mostrate la prova vuoi chiudere gli occhi? no perché non ho nessuna prova e voglio proseguire va bene ragazzi allora come funziona questo questo particolare dungeon? ve lo spiego subitissimo noi praticamente dobbiamo trovare delle pietre che hanno che hanno la lettera che ci serve in questo caso noi cerchiamo i c ed e ice e quindi dobbiamo trovare degli unknown unknown per 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 prendere queste cose quindi vediamo un attimo qua ci sono b c e e già c'è ice allora c'è la c c'è la e e non c'è la i quindi vabbè cerchiamo qua la c e la e e poi allora tanto qua un seme tenebro va bene e poi proseguiamo vabbè quindi sì non sono molti piani ragazzi quindi non vi preoccupate non ci sarà proprio da nessuna mostra ah ok fantastico quindi non ci sarà da perdere troppo tempo ecco allora vedete pietra l allora sì la l potrebbe servirci più avanti quindi la tengo allora questo non ci dà nessuna pietra invece qua troviamo una baccalieggia dobbiamo affrontarli tutti e prendere queste pietre ragazzi perché altrimenti è inutile non ci sono molti piani oh la e la e non mi dispiacerebbe ok perfetto qua ce ne stanno venendo tanti vabbè ovviamente noi li affrontiamo tutti allora questo non ci dà nulla intro forza e ragazzi comunque piano piano queste cose fanno male attenzione allora quello non ci ha dato niente questa mi sembra un'altra e boh non riesco a vedere molto bene in ogni caso non ci hanno dato nulla abbiamo comunque la e abbiamo già la e allora vediamo se riusciamo a far spawnare altri onnaun non ce la faccio ragazzi a pronunciarlo senza pensarci allora questa pietra c ok abbiamo la c la e e quindi ci serve la i per il momento la i che non si trova qua e quindi possiamo proseguire andiamo immediatamente alle scale allora un'altra L allora non ce ne servono due DL però vabbè allora vuole venersi la tua squadra si ok va bene non ci dispiace allora ho il livello 43 wow on oh ok ok si sono pokemon che diciamo non si pronunciano molto spesso quindi non li so pronunciare bene perdonatemi allora però penso che unknown unknown sia la pronuncia migliore allora vuole venersi la nostra squadra prendere a parte questa è la lettera U mi sembra allora vabbè in ogni caso alt no squadra e invia no allora invia la gilda si ok il pokemon si congeda perfetto allora perfetto proseguiamo come vi ho detto i piani non sono molti quindi possiamo permetterci questo giochino allora vediamo un attimo reclutamento pokemon ci serve la I la I si trova qua perfetto palmo forza S allora vediamo un attimo stiamo per finire le mosse qua quindi direi subito di allora perfetto allora ecco qua sono le chiavi le pietre che abbiamo per il momento allora beviamo l'elisir max ricarichiamoci questi pipi questa mi sembra una E boh si mi sembra una E sinceramente E ok però a noi serve la I ragazzi quindi cerchiamo questa I allora c'è un non per queste parti bellissimo Shinx che gli rilancia il coso allora qua ah questa era la gava roccia che non era nessuna pietra quindi oh un'altra E avrei potuto evitare di svegliarla vabbè vabbè fa niente oh gomma reale bella ah vabbè la diamo la diamo la diamo a a Devil mangia ok non acquisisce nessuna nuova abilità qui ma vabbè non importa allora la vedo un Pokémon oh la I la I la I la I allora speriamo che ci droppi la la pietra così abbiamo finito ok allora è la I o la Y allora adesso controllo un attimo perché hanno un I eh no penso sia la Y sinceramente sì mi sembra una Y non dannazione vabbè oh no il nostro attacco è diminuito di molto attenzione perché adesso vabbè finché abbiamo le mosse combinate non è un problema allora 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 questo è una C qualcosa di simile ragazzi ma vabbè in ogni caso il nostro obiettivo è trovare queste pietre quindi non possiamo fare altrimenti cioè io potrei proseguire finire il dungeon in 3 secondi però poi ci ritroveremo nel punto di partenza questa è lei questa è lei questa è lei droppa 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 ok fantastico fantastico procediamo grotta di ghiaccio piano meno 3 gomma chiare ma sì andiamo a cercare questa gomma chiara una J oh super efficace questa eh sì le intro forza ragazzi le conoscete meglio di me non c'è veramente nulla da spiegare allora non era questo quello con la gomma chiara vabbè dai cerchiamo attenzione attenzione perché io sto esplorando però come al solito poi finisce che perdo allora ma sì ma sì ma sì ma sì un bel centripugno fuori ahia che male eh ma dove sta quello con la gomma chiara cioè vabbè non so chi sia quindi proseguo immediatamente e oh team lady squad anche voi qui sembra che per proseguire sia necessario risolvere un mistero è irritante questa stele deve essere la chiave la superficie della stele è piena di profondi solchi a forma di on-own on-own la caverna è stra piena di on-own ci deve sicuramente essere un legame tra le due cose sì se desiderate passare chiudete gli occhi e mostrate la prova beh non è un granché come indizio beh io ho chiuso gli occhi ma non è successo niente ci deve essere qualcosa che ci sfugge torniamo nella caverna e cerchiamo di nuovo ci vediamo oh oh eh non lo sapete ma noi sì quindi allora devil controlla la stella la superficie è attraversata da strani solchi se desideri passare chiudete gli occhi e mostrate la prova vuoi chiudere gli occhi sì e le pietre on-own nella sacca dei tesori i c e stanno reagendo le pietre on-own attivate sono state assorbite dalla stele perfetto oh 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 fantastico ok vuoi proseguire? assolutamente sì scendiamo sala reggi ice ragazzi wow se vuoi proseguire dimostra di avere forza wow che bello ragazzi reggi ice madonna allora squadra shins mosse allora mi serve il tuo fulmidente la tua tononda specialmente e allora che bello ragazzi ma qua sapete già cosa bisogna fare un bel centripugno boom palmo forza e fantastico sconfitto reggi ice che bello una luce misteriosa volge devil hai ottenuto il permesso del guardiano fantastico fantastico ragazzi reggi ice sconfitto e non è poco questo non è assolutamente poco ottimo lavoro avete affrontato la lotta con un aplomb super super non lo so non chiedetemi cosa significhi faremo una brutta figura se non ci diamo una mossa le cose si stanno facendo più emozionanti del solito ma vi batteremo nel risolvere il prossimo mistero andiamo bello ci battono nel prossimo mistero senza neppure aver letto la stele va bene allora r o c k rock ok stessa cosa di prima stessa cosa di prima controlliamo un attimo quali o allora la c ce l'ho la c ce l'ho mi serve la r o allora vuoi proseguire no aspetta un attimo devo controllare r o c k no si c k ok mi serve la o la o la r e la k proseguiamo quindi allora grotta di roccia allora altro reclutamento pokemon vediamo chi c'è la k c'è la o c'è k o dobbiamo prendere bene semi dormita ebbene ragazzi comunque prima vi dicevo probabilmente molti di voi l'avranno già capito e ebbè semplicemente questo dungeon è legato ai reggi appunto c'è allora questa è una z che non mi servirà mai nella vita però vabbè oh la o la o la o la o la o mi piace allora palmo forza frana droppa perfetto l'ho presa subito questa non sarà mai una r mi sembra una z vista da qua vabbè non importa allora questa è una c allora vabbè non ci serve non ci serve un altro o quindi va benissimo possiamo andarcene allora intro forza che fa malissimo wow ragazzi attenzione 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 questa è un'altra z qua c'è una bacca arancia beh la bacca arancia me la mangia direttamente va mangiamola con devil ok buono eh castagna trappola ok castagna trappola ci serve la la mi sono scordato allora qua c'era la o e la e la k la o e la k si la r non c'è no allora ho sbagliato centripugno carichiamolo bello bello eh no purtroppo no allora 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 un attimo vabbè non è che io quindi ah ok fantastico palmo forza frana questa è un'altra z ma si dai mi piace avere fanno un'u in squadra quindi eh allora comunque terreno no eh no squadra ce la posso fare al primo tentativo ehm inviamo quel coso alla gilda allora eh ci serve la la k non abbiamo trovato neppure una k eh eccola appunto parlavamo di k ed eccola qua droppa per favore così ci eviti fantastico eh eh si la lascio qua vero allora abbiamo la eh c la o le z non ci servono quindi si possiamo proseguire cerchiamo praticamente adesso solo la ehm la 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 allora vediamo un attimo reclutamento pokemon la r che si trova qua fantastico va prendiamo questa grave roccia allora oh una chiave bella la chiave ragazzi sapete che si paga tantissimo quindi prendiamola ehm l l allora no togliamo un'altra z va allora qua c'è un seme teleseme vabbè oh golbat figo figo golbat allora vabbè questo dovrebbe andare che io dopo questo attacco perfetto ehm allora ehm allora c e si la j possiamo toglierla perchè non ci serve eh purtroppo bisogna fare attenzione con queste lettere ragazzi perchè io sto pensando anche più in là ora ovviamente non mi spoilerò nulla però allora semefato no mai eh potevi evitare di svegliarlo poverino adesso siamo costretti ad ucciderlo allora no dobbiamo trovare questa r questa è una e ci sono un sacco di e eh non droppa nulla vabbè non mi interessa tanto una n una n non droppa nulla neppure lui eh un'altra n purtroppo però devo un attimo fare spazio perchè sto per finire le ehm le mosse quindi beviamo l'elisir max ma si ragazzi chi se ne frega allora 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 dobbiamo cercare quindi praticamente altri a non questo è la e vabbè si andiamolo ok così facilmente eh semefato si c'ero già passato prima ehm allora wow guardate che figo un machok un machok ragazzi allora carichiamo il centro il pugno lasciamolo avvicinare e boom c'entra il pugno distruttivo ci ha dato anche un bel po' di punti esperienza dai non male beh un bel po' oddio per quelli che prendiamo in media ora non è nulla però eh dove diavolo si trova questa allora n volo numerose la nostra squadra eh ok n ok n squadra non via la gilda che poi a me stava anche antipatico n ma vabbè allora allora k si z no via vabbè l'ho presa solo perché ho tempo da perdere allora ahia questa bombotrappola mi ha fatto male ha sbloccato un altro pezzo di mappa praticamente allora c'è un annun da qualche parte che cammina sopra la pietra z quindi deve essere praticamente dove stavamo prima noi però io nella mappa ah la ho eh ragazzi lo so è un po' noioso cercare tutte queste cose però eh dobbiamo forse questa è la r dimmi che è la r oh grande schins grande allora togliamo la y e abbiamo finito abbiamo finito li abbiamo tutte quindi ci faremo sì perfetto allora procediamo ci faremo un altro piano molto tranquilli vediamo un attimo eh vabbè vabbè se trovo qualche annun che mi interessa questo no ad esempio però lo devo mandare capo solo per passare allora allora bacca arancia vabbè dai non è uno strumento indispensabile poi chissà quante ne ho nel deposito ne ho anche un po' adesso quindi voglio proseguire immediatamente un'altra bacca arancia procediamo ed eccoci ritornati qua oh un messaggio c'è qualcosa di fronte alla stele sembra trattarsi di una lettera devi leggere la lettera al team di discord come promesso abbiamo già risolto questo mistero stiamo proseguendo questa è una gara per vedere quale delle due squadre arriverà per prima al tesoro oh fantastico devil controlla la stella superficie ok vuoi chiudere gli occhi sì ok e adesso le pietre dovrebbero fare il loro lavoro ok perfetto la stele scompare e si materializza una scalinata nascosta vuoi proseguire sì voglio proseguire e siamo nella sala di regiroc se vuoi proseguire dimostra di avere la forza di averne la forza vabbè allora le mosse date a schinks le conosco ok come prima qua posso caricare tranquillamente in centripugno lui si avvicina e si becca il centripugno brutto colpo di centripugno e mandato KO da fulmidenti quindi è abbastanza semplice questa lotta fantastico e otteniamo vabbè anche questa volta il permesso dal guardiano luce misteriosa avvolge e hai ottenuto il permesso dal guardiano fantastico boom ok siamo quindi nell'ultima stele e penso non sia un mistero dirvi quel che che contiene s t e e l ragazzi still vuoi chiudere no no ho sbagliato non succede ebbè non succede niente perché non li abbiamo allora vediamo un attimo quale pietra abbiamo abbiamo una e una l quindi ste e l due l addirittura vabbè si ci serve la st e e l ok ci serve la s la t e la e o in un'altra e va bene ragazzi io però direi che per questa parte è tutto nella prossima appunto cercheremo di superare questa stele e di proseguire nel nostro viaggio non voglio far durare la parte troppo quindi io vi ringrazio per la visione spero vi sia piaciuta alla prossima ciao a tutti